Coronavirus, il contagio in provincia di Rimini e in Emilia Romagna corre, ma i ricoveri sono stabili. Resta la zona bianca. Beatrice, sei anni, la prima bimba vaccinata a Rimini. L'Ausl accorcia i tempi. Gli infermieri riminesi non ce la fanno più. Il presidente dell'ordine Nicola Colamaria denuncia una situazione sempre più al limite. In corsia, clima difficile con i pazienti Novax. Don Marco Casadei, nuovo direttore dell'Istituto Superiore di Scienze Religiosi Alberto Marvelli. Approfondimento nei giorni della chiesa di questa sera su Icaro TV alle 20.40. Calcio, ultima trasferta del 2021 per il Rimini, domani a Lucca, sul campo del Seravezza Pozzi. La vigilia dell'allenatore dei Biancorossi, Marco Gaburro. Buonasera da Lucia Renati. Coronavirus, il contagio continua a correre in provincia di Rimini e in Emilia Romagna, ma per questa settimana è ancora scongiurato il passaggio in zona gialla. A fronte del costante aumento dei casi, infatti, l'RT e il tasso di occupazione ospedaliera restano ancora nei limiti. Sentiamo Maurizio Ceccarini. Nuovi picchi di contagi a Rimini e in regione, ma l'Emilia Romagna resta in zona bianca. In provincia i nuovi casi superano il muro dei 300, oggi 302, di cui 174 sintomatici, molte anche le guarigioni, 215. In Emilia Romagna, dopo aver superato ieri quota 2.000, i nuovi casi. Oggi sono 2.507 su 40.338 tamponi. La percentuale dei nuovi positivi sul totale dei test è del 6,2%. Ieri il 5. Bologna abalta 526 nuovi casi. I decessi sono 15. Nessuno in provincia di Rimini, con età tra i 76 e i 97 anni. Le nuove guarigioni sono 1.497. i casi attivi salgono a 38.184. Rispetto a ieri 1.065 in più. Un mese fa erano in totale 11.000. Ma l'aumento del contagio per ora ha effetti limitati sugli ospedali. I pazienti ricoverati nelle terapie intensive sono 102, 4 in meno. Rimini sale però da 13 a 14. 989, quelli negli altri reparti Covid, 1 in meno rispetto a ieri. L'incidenza dei nuovi casi sale a 292 in una settimana ogni 100.000 abitanti. Ma il dato che oggi conta è l'RT regionale di 1,15 in callo rispetto all'1,3 della scorsa settimana. L'occupazione dei posti letto Covid ordinari è all'11% rispetto a un limite del 15, mentre quella dei posti letto nelle terapie intensive è al 10%, la soglia limite. Per ora quindi non c'è il passaggio al giallo, che è infatti determinato dal superamento contemporaneo sia dell'incidenza che dell'occupazione di posti ospedalieri. Ed è cominciata ieri negli hub romagnoli la vaccinazione dei bambini tra i 5 e gli 11 anni. I numeri sono ancora limitati, ma la prima risposta è stata superiore anche alle aspettative della stessa Ausl, che ha dovuto subito riorganizzare il programma di somministrazioni per venire incontro alle richieste di prenotazione. Intanto la prima viva vaccinata a Rimini è Beatrice, di 6 anni. Vediamo. Era lecito aspettarsi che la vaccinazione per i bambini fosse complessa dal punto di vista del convincimento, ma evidentemente ci si aspettava numeri ancora più bassi di quelli registrati perché le prime sedute organizzate negli hub con l'apposita presenza di pediatri sono andate subito esaurite e chi ieri cercava di prenotare tramite fascicole elettronico da Rimini trovava le prime disponibilità tra fine gennaio e inizio febbraio nel Forlivese e nel Cesenate. Dall'Asl Romagna fanno sapere che ci si sta riorganizzando per offrire sedute aggiuntive e accorciare i tempi. Già oggi a metà giornata era possibile effettuare prenotazioni entro fine dicembre, se non prima ancora di Natale. Intanto ieri pomeriggio all'Hub di Rimini sono stati vaccinati i primi 64 bimbi, la prima in assoluto Beatrice, di 6 anni di Savignano, accompagnata dal padre e dalla nonna, che hanno ricevuto nello stesso hub la terza dose, uscendone con un giudizio più che positivo. Abbiamo vissuto con un'assoluta serenità, nel senso che per noi non c'erano alternative. Quando abbiamo detto che facciamo il vaccino per il Covid così siamo tutti più liberi e sereni, insomma, dopo un po' si è convinta. La macchina si stava mettendo in moto e c'erano infermieri e duttori con le corna di renna, col cappello da Babbo Natale, c'erano tutti gli stand adobbati con luci e palline di Natale, poi uno scatolone enorme pieno di caramelle, una serie di diplomati attestati di coraggio a non finire. Si erano dati da fare in tutti i modi e direi che da questo punto di vista impeccabili. Perché si trova in prima linea ad affrontare la nuova ondata Covid, la situazione però è al limite della sostenibilità. Questo grido d'allarme arriva dagli infermieri che, oltre a dover fronteggiare l'emergenza, diventano purtroppo vittime delle minacce dei pazienti Novax. Gli infermieri riminesi non ce la fanno più. A dirlo il Presidente dell'Ordine Nicola Colamaria che denuncia una situazione sempre più al limite. Come se non bastassero le fatiche degli ultimi due anni di emergenza costante, le ore di straordinario anche per via del centinaio di colleghi su un organico di 2500 circa, sospesi causa mancata vaccinazione, ormai da mesi si sono aggiunti anche i comportamenti dei pazienti contrari al vaccino. Atteggiamenti talvolta aggressivi che ostacolano le cure e mettono a rischio la salute del paziente stesso. E così quelli che erano chiamati angeli o eroi fino a qualche tempo fa, ora sono oggetto di continue violenze verbali che rendono il lavoro talvolta insostenibile. È venuta meno, spiega Colamaria, quella fiducia che è fondamentale per la cura. Fare assistenza a queste persone è diventato problematico. Vengono contestate le modalità di fare assistenza. Vengono contestate le terapie farmacologiche. Perché mi fai questo farmaco e invece non utilizzi quest'altro? Perché a me dicono che quest'altro è migliore? Perché mi devo mettere in questa posizione e non mi devo mettere in quest'altra posizione? E' chiaro che lavorare in questo contesto diventa davvero complicato. Ci sono colleghi che rischiano di mollare, rischiano di non farcela perché tornano a casa che sono esausti. Non c'è più quel rapporto di fiducia che è sempre esistito tra i pazienti, tra le persone che hanno bisogno di cure e i sanitari. È tutto costantemente oggetto di discussione. Ma addirittura i pazienti, le persone ricoverate in rianimazione, che voglio dire quando si arriva alla rianimazione significa che si sta davvero male, anche queste persone hanno il timore che i farmaci che vengono loro somministrati possano far loro male. Hanno il timore di essere vaccinati inconsapevolmente. Quindi richiedono ripetutamente che cos'è questo? Non è il vaccino? Io non voglio il vaccino. Sono continuamente concentrati su questo aspetto perdendo di vista il significato della loro salute personale. E noi dobbiamo evitare che questo clima che si sta instaurando nelle nostre strutture sanitarie de generi. Oggi in prefettura a Rimini si è riunito il Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica. Oltre ai vertici delle forze dell'Ordine e delle specialità della Polizia di Stato hanno partecipato anche i sindaci di Rimini e Riccione e i vigili del fuoco e anche l'azienda sanitaria. Nelle aree degli eventi anche all'aperto si accederà solo con le mascherine. L'accesso nelle singole aree sarà consentito solo con Green Pass nel rispetto delle distanze di sicurezza e della capienza. Saranno predisposti varchi di accesso e di controllo del Green Pass in prossimità degli eventi. Divieto di vendita di alcol e uso di bottiglie in vetro. Il prefetto ha anche disposto la proroga fino al 31 marzo del decreto che esclude come luogo di svolgimento di alcune manifestazioni a Rimini le piazze Tremartiri, Cabur e Malatesta in coerenza con il decreto del governo di proroga dell'emergenza sanitaria. Andiamo adesso a parlare della Guardia di Finanza perché i finanzieri del Comando Provinciale di Rimini hanno eseguito un sequestro preventivo per oltre 600 mila euro nei confronti di un noto imprenditore riminese del settore turistico alberghiero. Il reato è truffa aggravata ai danni dello Stato. Sentiamo. Aveva ricevuto fondi pubblici per rinnovare la struttura alberghiera ma non aveva mai eseguito i lavori. Il finanziamento statale indebitamente percepito è costato a un noto imprenditore riminese del settore alberghiero l'accusa di truffa aggravata ai danni dello Stato e un sequestro preventivo per oltre 600 mila euro. Le indagini della Guardia di Finanza si sono concentrate su una platea di oltre 14 mila percettori con situazioni ritenute a rischio e tra questi è emersa la società con sede a Rimini. Il profilo è apparso subito sospetto. Quello dei finanziamenti pubblici garantiti dallo Stato a fondo perduto è un comparto reso ancora più vulnerabile e a rischio di speculazioni dalla pandemia. Il finanziamento era destinato alla realizzazione di fabbricati e opere murarie e acquisto di macchinari, impianti e attrezzature entro nove mesi dall'erogazione. Interventi che non risultano mai essere stati effettuati e la società non era nemmeno intestataria della proprietà o di contratti di locazione di alcun immobile. Il requisito per l'ottenimento del finanziamento era la presentazione di un progetto di investimento la cui copertura era il 20% di risorse proprie e l'80% dal finanziamento. La società avrebbe ricevuto le somme necessarie a coprire la quota di sua aspettanza, circa 200 mila euro da due società che ne detenevano la proprietà ma riconducibili alla stessa famiglia, salvo poi restituirle a una delle due dopo l'ottenimento del finanziamento, a pagamento della vendita di immobilio che non risulta mai essere avvenuta. Nella prima parte dell'operazione Free Bolt fu un trentenne riminese, amministratore unico di una società che gestiva scuderie di cavalli da corsa nell'entroterra, a essere denunciato per aver percepito indebitamente 30 mila euro tramite bilanci gonfiati. Passaggio di testimone, ieri sera in sala Manzoni a Rimini tra il direttore uscente dell'Istituto Superiore di Scienze Religiosi Alberto Marvelli, Natalino Valentini e Don Marco Casadei che guiderà l'Istituto nei prossimi anni. Vediamo. Per usare le parole di un autore a me molto caro, padre Pavel Frajensky, si potrebbe dire che la verità manifesta è amore, l'amore realizzato è bellezza. Cita l'autore che più ama e che più lo ha ispirato nel suo percorso accademico per congedarsi da docenti e studenti dell'Istituto Superiore di Scienze Religiose Alberto Marvelli. Dopo 16 anni il professor Natalino Valentini passa il testimone della direzione dell'Istituto che grazie a lui è diventato un punto di riferimento per chi si avvicina allo studio teologico. A ricevere questa importante eredità Don Marco Casadei che da tanti anni insegna teologia fondamentale al Marvelli. Mi trovo molto in soggezione davanti a questa eredità. Non nascondo che ho resistito non poco davanti alla possibilità di questo incarico, di questo servizio perché è intimorito da un tale gigante. Spero se non tanto di salire sulle spalle come si dice dei giganti ma almeno di essere nelle mani, custodito dalle mani di questo amico ma veramente maestro anche in tutto. Sento necessario puntare molto sulla collaborazione e la collegialità nel lavoro insieme agli altri colleghi, colleghe. Penso che l'Istituto sia davvero una grande risorsa sia per le diocesi, le due diocesi ma anche per i nostri territori quindi anche per le nostre istituzioni sociali, civili, politiche, economiche. Insomma può essere, in questo Natalino è stato veramente un profeta e ha lanciato molti spunti che possono essere portati a frutto. Il passaggio è stato l'atto conclusivo del tradizionale appuntamento della meditazione teologica prenatalizia quest'anno affidata al Vescovo di San Marino Montefeltro, Andrea Turazzi. Il Vescovo di Rimene, Francesco Lambiasi, ha anche consegnato le pergamene agli studenti che hanno completato gli studi nelle ultime sessioni di laurea. E un approfondimento sul passaggio di consegne al Marvelli sarà proposto nella puntata di questa sera dei giorni della Chiesa in onda su Icaro TV alle 20.40. Si parlerà anche di scuola e ambiente con allievi e docenti della Scuola delle Maestre Pie, ambiente e musica con il cantautore Lux e di impegno ambientale con il gruppo Ecologicamente Rimini. Andremo anche in Uganda per conoscere la bella esperienza della scuola Luigi Giussani di Campala. Andiamo adesso a parlare di calcio. Ultima trasferta del 2021 per il Rimini di scena domani alle 14.30 in provincia di Lucca sul campo del Seravezza Pozzi. Nono in classifica con 20 punti e chi ha da poco cambiato guida tecnica. I Verdi Azzurri domenica nel derby toscano di Agliana hanno interrotto con un pareggio una striscia di tre cappa o di fila. Il Rimini in vetta con 38 punti. Nell'ultimo turno ha rifilato un rotondo 4-0 all'Atletic Carpi. Ascoltiamo la vigilia dell'allenatore del Rimini, Marco Gaburro. Andiamo su un campo, secondo me, delicato per quello che è il tipo di squadra che si incontra, per quello che è il valore della rosa della squadra che si incontra, che quest'anno sta incontrando qualche difficoltà in più, penso, del previsto, pur essendo sempre stata nettamente fuori dalle ultime sei posizioni. Viene da una piccola flessione che ha portato anche al cambio della guida tecnica, ma di fatto il fatto stesso che abbia cambiato guida tecnica dopo tre sconfitte, essendo sempre nelle zone medio-alte della classifica ed essendo andata a prendere un giocatore come Rodriguez in settimana, fa capire che si tratta comunque di una squadra che tendenzialmente lavorerà probabilmente per entrare ai play-off e non certo per salvarsi. È una squadra che negli anni scorsi ha sempre fatto molto bene, che quest'anno ha pagato qualcosina in più dal punto di vista probabilmente di qualche cambiamento interno, ma che ha un gruppo giocatore molto affiatato, che si conosce bene e che hanno sicuramente dei valori, che possono essere annoverati nelle squadre subito dietro rispetto a quelle che stanno in testa. I Rimini dal punto di vista della condizione sta bene, purtroppo abbiamo qualche giocatore che non fa parte della trasferta per una serie di valutazioni che ho fatto io, perché Carboni non è ancora rientrato e abbiamo avuto una piccola influenza sia su Piscitella sia su Tomassini, che in questo momento di fatto è quasi risolta, ma che visto che si gioca anche mercoledì non ritengo sia giusto portarli a fare questo tipo di trasferta. È giusto che si mettano a posto bene e che lavorino in vista della prossima partita. Ci sono troppi elementi discordanti per poter avere comunque le idee chiarissime su quello che loro andranno a fare. Io penso che però quando ti entra un giocatore come Rodriguez tende ad alzare quella che può essere l'autostima del gruppo, almeno sul fischio di inizio, in partenza. E quindi giocando in casa e venendo comunque da questa 2-2 in rimonta, che comunque può aver dato fiducia, mi aspetto una squadra all'inizio abbastanza comunque sul pezzo. Pesano tutti. Noi vorremmo il più possibile cercare di mantenere la testa della classifica e possibilmente, se ce la facciamo, di guadagnare anche qualcosina prima dello sconto diretto. E per noi è tutto. Vi ringrazio dell'attenzione e vi auguro una buona serata. Grazie a tutti. Grazie a tutti.